Antonio Riccardi del Tournament, hai alcune notizie per me? Beh, qualcosa di strano è successo l'esterno. Per la prima volta in questa championship, stiamo utilizzando per registrare i match più importanti che ha giocato nel BBO e lo broadcastiamo su YouTube. Sono qui con Trajan Kira. Trajan, potresti spiegare il uso delle camera durante i match e nel live streaming? Inoltre, devi registrare in livebridge.net, cliccare su live theater e da qui trovi 8 canali. Durante queste championship, abbiamo 8 canali YouTube. La formula è BBO1, Channel 1 e 2, BBO2, Channel 3 e 4 e così via. Inoltre, cliccare sul canale che vuoi guardare e guarda! E puoi anche downloadare il match dopo aver finito? Puoi guardare ogni single match che è stato broadcastato prima perché è stato salvato automaticamente. Questo potrebbe essere aiutato in molti casi. Per esempio, per vedere se la carta era giocata, se la carta era rilasata sul canale. Ma inoltre, abbiamo usato, per la stessa volta, la voce del record per fare una decisione, per dare una rilasata. Questo succede. C'era un'opera di una rilasata di diamanti e un'avvicinazione di Tuno Tram. Il giro che avvicinò Tuno Tram ha detto che questa rilasata era rilasata di diamanti e club. Ma quando il tre arriva dall'altra parte, il partner dell'avvicinatore ha detto che Tuno Tram era rilasata di harti e club. sull'avvicinazione di tre, in mano, ha deciso di fare 4 pezzi. Il trame fuori dall'altra parte e le 4 pezzi sono rilasata da suo partner per 5 pezzi. Il risultato del board era 5 pezzi più 1 pezzi. Il direttore di Tuno Tram era chiamato e l'avvicinatore ha detto che l'esplanazione che era rilasata dal giro di 4 pezzi non era rilasata di rispondimento come usualmente, ma era rilasata di rispondimento. E, ovviamente, in questo caso, dobbiamo decidere se credere ad un giro o ad un altro. Ma in questo momento la tecnologia ci aiuta. non è rilasata di passare. Abbiamo preso il record della mano e abbiamo chiaro, il giro di giro di rispondimento e il rispondimento, almeno, con il livello della sua voce. Questo è un caso tipico di informazione inautorizzata, perché in un caso come questo il giro di 4 pezzi potrebbe essere fatto anche con 8 o 9 pezzi in pezzi e è normale che passare. ma, usando un'autorizzata l'informazione l'overcola è rilasata da 5 pezzi. Questa informazione è rilasata da un pannello è sufficiente che almeno un giro che il pass sia una alternativa per tornare a 4 pezzi. e questo è quello che abbiamo fatto e il risultato di 5 pezzi più 1 è cambiato in 4 pezzi meno 6.